Amici software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 133esima puntata del podcast di Marcosbox. Rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcosbox a commentare con voi le principali notizie dal mondo del software libero e open source delle ultime due settimane in questo caso. Non ci sono state tante notizie da postare sul podcast e per questo la puntata è slittata di una settimana. Comunque le notizie che sono state pubblicate sul blog sono interessanti e alcune faranno anche discutere. Apriamo questa puntata parlando di Debian con una notizia che ha fatto discutere e che è un passo, un punto fisso nella storia di Debian che verrà ricordata nei prossimi anni. Nelle scorse settimane la comunità degli sviluppatori di Debian ha aperto una votazione online volta a discutere in merito alla presenza di firmware non libero all'interno della distribuzione. Come ben saprete Debian non carica del firmware non libero per impostazione predefinita all'interno della distribuzione. Seppur condivisibile come scelta di principio questa posizione spesso causa problemi ai neofiti che vogliono avvicinarsi a Debian. Non caricare il firmware non libero significa che ne so non avere supporto all'accelerazione hardware o avere anche problemi di usabilità generali. Fra le proposte presentate all'interno della votazione a prevalere è stata quella che consente adesso, consedirà ai supporti ufficiali di Debian di includere firmware che non fa parte di Debian per consentire l'uso di Debian con hardware che richiede tale firmware. Questo significa che gli sviluppatori di Debian includeranno pacchetti firmware non liberi nella sezione non free firmware dell'archivio di Debian sui supporti di installazione ufficiale, quindi immagini di installazione e immagini live. I binari dei firmware inclusi saranno normalmente abilitati per impostazione predefinita quando il sistema ne determina la necessità, ma ovvero possibile verranno inclusi modi per gli utenti per disabilitarli all'avvio, magari un'opzione di menu di avvio, riga di comando del kernel e quant'altro. Quando l'installatore installa il sistema live in esecuzione e in esecuzione viene fornita all'utente una informazione, verrà mostrato un pop-up, una qualche cosa che invita informazioni sull'illustra, su firmware caricato, sia libero che non libero, e tali informazioni verranno memorizzate sul sistema di destinazione in modo che gli utenti possano trovare in seguito. Nel caso in cui sia necessario un firmware non libero, il sistema di destinazione sarà configurato per utilizzare il componente non libero per impostazione predefinita nel file apt-sources.list. Gli utenti di Debian potranno ricevere gli aggiornamenti di sicurezza e le decorazioni importanti dei binari del firmware come qualsiasi altro software installato. Queste immagini saranno pubblicate come media Debian ufficiali e andranno a sostituire gli attuali set di media che non includono pacchetti firmware non liberi. Debian si apre quindi così al futuro adeguandosi a tutte quante le altre distribuzioni che fanno già questo per impostazione predefinita. Quindi benvenga Debian che si siano finalmente accorti la necessità di operare questa scelta. Restiamo a parlare di distribuzioni Linux e passiamo a Ubuntu con una notizia che negli scorsi giorni ha fatto molto discutere perché come al sempre Canonical fa delle cose, le pubblicizza però in una maniera un po' ambigua e questo poi genera casini all'interno della comunità perché ci sono sempre quelli pronti ad attaccare Canonical per qualsiasi cosa fa. Anche se in questo caso forse ha fatto una cosa un pochettino fastidiosa. Ma andiamo con ordine perché sono due le notizie riguardanti Canonical. Una che è stata postata sul blog, l'altra che non è stata postata sul blog ma se avete seguito la community Telegram di Marcosbox vi sarete accorti della notizia perché è passata anche lì. Canonical negli scorsi giorni ha lanciato gli abbonamenti personali gratuiti a Ubuntu Pro quindi anche gli utenti tradizionali possono sfruttare gratuitamente l'abbonamento Ubuntu Pro Standard che cosa offre questo sistema? Offre degli aggiornamenti di sicurezza e di vulnerabilità per altre applicazioni oltre a quelle inerenti al sistema operativo che significa praticamente Canonical che ne so offre aggiornamenti di sicurezza per programmi come Ansible, Node.js, Docker, Drupal, Redis, Rust e chi più ne metta. Quindi chi sceglie Ubuntu potrà avere migliaia di applicazioni che verranno continuamente aggiornate per il ciclo vita di uno Ubuntu e l'ETS ad esempio e potrà avere sempre questi pacchetti aggiornati quindi indipendentemente dai pacchetti base della distro anche di questi pacchetti di applicativi che sono largamente utilizzati nel mondo aziendale ecco perché Ubuntu Pro nasce nel mondo aziendale quindi adesso lo possiamo sfruttare anche noi utenti casalinghi tra tutto poi il servizio non costa nemmeno tanto i piani a pagamento hanno un prezzo di 25 dollari all'anno per Workstation quindi offrano anche servizi aggiuntivi per le aziende come supporto aziendale fino a 24 ore su 24 7 giorni su 7 per il sistema operativo Ubuntu e per tutti questi pacchetti che vengono garantiti quindi è un servizio che per gli utenti professionali ha un suo perché e che adesso è disponibile anche per gli utenti quelli casalinghi ed è disponibile gratuitamente perché vi dicevo perché ci sono state polemiche perché che cosa ha fatto Canonical? ha pensato bene di inserire una pubblicità perché quello di fatto è una pubblicità di questo all'interno di quando si va a fare un aggiornamento da terminale della distribuzione quindi se noi andiamo a fare un apt dist upgrade verrà mostrato all'interno dell'output del terminale questo messaggio dice ricevi aggiornamenti di sicurezza con Ubuntu Pro scoprine di più e viene rimandato al link del sito ubuntu.com ed è di fatto un annuncio pubblicitario sebbene questa comunque sia sia tecnicamente una sponsorizzazione innocente perché per gli utenti casalinghi l'offerta è gratuita quindi su un massimo di 5 dispositivi questo mi ero dimenticato di dire prima quindi sebbene una cosa a fin di bene una cosa pacifica questo è stato preso come uno spam è una pubblicità che non andava fatta non andava mostrata gli utenti quelli più puri si era sorpresa si era sorpresa a mare per questa cosa qua per questo messaggio nella riga di comando e hanno iniziato a fare i soliti paragoni ah Ubuntu e come sta diventando come Windows se utilizzate Windows 10, Windows 11 vi sarete accorto dello spam dei servizi Microsoft che oh mamma mia è impressionante qualsiasi cosa ogni tanto Windows per esempio vi ricorda utilizza Edge o fai questa ricerca così utilizza B una cosa assurda e questa è stata presa come come metro di paragone gli utenti hanno iniziato a dire ah Canonical si sta comportando come Microsoft e quindi hanno paura anche gli utenti che dicono ah in futuro vedremo sempre più pubblicità all'interno della distribuzione memory poi anche non so se vi ricordate della Rens Amazon di qualche anno fa su Unity e io personalmente non ci vedo nulla di mare questo annuncio tra parentesi ti viene fuori se tanto si aggiorni la distribuzione da apt tramite terminale quindi se è una cosa scema cioè una critica scema che viene posta alla distribuzione non ci vedo non ci vedo malignità non ci vedo cose non ci vedo cose fatte col fine di dare fastidio agli utenti pubblicizzano soltanto un prodotto che la maggior parte degli utenti non vedrà se si limita ad aggiornare la distribuzione tramite YouTube e gli aggiornamenti automatici quindi fatemi sapere voi che cosa ne pensate per me è tutta una polemica sterile inutile come ogni qual volta si va a parlare di Ubuntu ci sono sempre Ubuntu qualsiasi cosa fa è sempre male quindi canonica qualsiasi cosa fa è sempre male è il difetto dei pinguini già che sono in tema di distribuzioni vi aggiorno sulla mia situazione distro come ben saprete io sono un girovago delle distribuzioni cambio di distribuzioni con la stessa frequenza con cui si cambiano gli slip la mattina e in passato ho fatto anche danni ai computer con harddisk che chiedevano pietà per le formattazioni continue ma questa è un'altra storia e utilizzo con dicevo utilizzo adesso da diverso tempo da diversi mesi con estremo piacere Endeavor S nella edizione quella con KDE quindi mi sono installato KDE perché perché sto utilizzando questa distribuzione beh devo essere sincero tutto è partito da quello che sta accadendo con KDE Neon KDE Neon ci sta mettendo tantissimo tempo per potersi aggiornare alla nuova versione basata su Ubuntu 22.04 e per non voler stare lì a mettere PPA e quant'altro per poter mantenere aggiornati i pacchetti ho detto sai che c'è di nuovo piano tutto passo a qualche altra distribuzione basata su KDE mi sono guardato un po' intorno e ho detto perché non non provare impianta stabile Endeavor S Endeavor S è una derivata di Arch che ha soltanto una serie di repository aggiuntivi per i suoi pacchetti quindi sono personalizzazioni grafiche il tool per i driver Nvidia e qualche altra cosina ho detto fammelo provare questa distribuzione sanno tutti quanti sempre a parerne bene e vi devo dire la sto utilizzando con piacere da diverso tempo mi sto affezionando ad Arch e ho paura di essere diventato un fanboy di Arch perché riesce a soddisfare il mio bisogno di aggiornamenti continui sapete che io soffro di aggiornite quindi mi piace provare sempre le ultime versioni di pacchetti applicativi e quant'altro di desktop environment e con Endeavor S basata su Arch ho la possibilità di provare sempre gli ultimi pacchetti in poco tempo perché gli aggiornamenti sono molto frequenti e arrivano spesso molto prima delle altre distribuzioni perché dico spesso molto prima delle altre distribuzioni perché per esempio da quel che ho visto Gnome sta tartando arrivare su Arch questo dovuto all'ultima versione di Gnome perché da quel che ho capito perché c'è un povero tizio che pacchettizza Gnome per Arch e quindi quel poveretto se la prende con comoda quando ci sono i passaggi di versione perché deve assorbire tutti i lavori e magari deve anche cercare di presentare un prodotto stabile KDE invece lo amano tutti quanti evidentemente c'è più gente appresso a KDE pronta ad aggiornare tutti quanti amano KDE vi siete accorti che tutti quanti amano KDE e tutti quanti schifano Gnome questa è una frecciatina a tutti quegli utenti Gnome che adesso mi verranno a prendere con il forcone sotto casa speriamo di non aver lasciato briccioli di panna per capire dove abito comunque tornando a registro mi sono davvero mi sto davvero trovando benissimo con questa distribuzione ve la consiglio è un arch con un installer semplice che è da utilizzare con una serie di applicativi che vi aiutano per esempio nell'installazione dei driver in video in maniera semplice non ci sono personalizzazioni a parte gli sfondi e qualcosina fateci un salto fateci un pensierino provatela fatemi sapere come vi trovate vi dirò di più molto probabilmente resterò su questa distribuzione lungo perché non sto trovando dei motivi validi per tornare a le debian base per tornare a Ubuntu per tornare magari a riprovare KDN1 quando ci sarà l'aggiornamento alla base 22.04 con Arch con Endeavor ho tutto quello che mi serve riesco ad avere aggiornamenti continui non ci sono tanti bug anzi non mi sono capitati bug e quant'altro durante l'utilizzo in questi mesi magari quasi quasi l'unica cosa che cercherò di fare nei prossimi mesi è dedicare magari un altro un altro SSD a seguire lo sviluppo di PopOS perché forse l'unica distribuzione che merita attenzione in questo periodo Ubuntu oramai è diventata uguale a se stessa quindi che i release semestrali non aggiungono stravolgimenti se non qualche aggiornamento di base di alcuni pacchetti e di GNOME alla solita maniera di Ubuntu quindi non mai nella totalità ma a pezzi a pezzi però invece PopOS come ben saprete sta sviluppando un nuovo desktop environment scritto in Rust che negli scorsi settimane poi se non ricordo ma ho postato anche qualche cosa all'interno del canale Telegram non so se sul canale principale o su quello quello segreto perché c'è un altro piccolo canellino segreto che davvero sta promettendo bene potrà portare secondo me PopOS una ventata di aria fresca nel mondo delle distribuzioni Linux su questo nuovo desktop environment in Rust e quello secondo me merita attenzione lo attenzionerò nelle prossime settimane tanto adesso ho un altro SSD visto che ho approfittato di una promozione che ho prendito ho acquistato un SSD da un tier su quale ho spostato Windows sperando di aver risolto i problemi di blocchio con l'aggiornamento di settembre Windows 11 fa schifo lo dico qui lo dico e qui lo confermo lo sottoscrivo sto avendo problemi con l'aggiornamento di settembre di Windows 11 che mi causa dei freeze non solo in solo ho segnalato la cosa anche su su Reddit ma sui canali ufficiali di Microsoft ancora non siamo riusciti a capire perché ad alcuni utenti sta causando questo problema ho reinstallato giusto ieri Windows 11 sul disco nuovo speriamo che il problema sia dovuto a qualche strana configurazione o qualche pacchetto che avevo installato in precedenza magari vi aggiornerò nella prossima puntata del podcast se finalmente ho risolto i problemi con Windows 11 con un'installazione pulita e dicevo ho spostato Windows 11 sul disco da un tier e l'SSD M2 l'ho passato prima ero con Windows adesso l'ho passato a Endeavor OS e mi avanzo un disco da 2.40 nel quale andrò a installare PopOS per seguirne lo sviluppo quindi adesso questo è il mio setup ovviamente sto per la maggior parte del tempo su Endeavor OS su Windows ahimè ci devo tornare per lavoro per lavorare e ci devo tornare anche per il gaming perché lì ci sono i vari giochi che ho acquistato che non riesco non voglio far funzionare su Linux perché magari c'è sempre qualche piccolo problemino e quant'altro quindi preferisco andare di Windows tanto non mi costa niente fare un revio quando mi faccio quella partitina ogni tanto con mio nipote e quant'altro fatemi sapere voi magari lasciate un commento all'interno del post sul Marcosbox che trovate per questa puntata del podcast lasciatemi un commento qual è il vostro setup sono curioso di sapere il vostro setup quale distribuzione utilizzate se utilizzate un dual boot quale sistema operativo utilizzate diverso da Linux se utilizzate ancora Windows 10 se siete passati a Windows 11 se anche voi schifate Windows 11 come me lasciate un commentino sono curioso di sapere e riallacciandoci a Endeavor OS con KDE come non parlare del rilascio di KDE Plasma 5.26 perché lo scorso 11 ottobre la community di KDE ha annunciato il rilascio di questa nuova versione di KDE Plasma questa nuova versione viene fornita con dei nuovi widget ottimizzazioni quali ai widget miglioramenti nell'esperienza desktop che rendono adesso l'uso di plasma più facile accessibile e piacevole ci sono poi due nuove applicativi perché è stato introdotto Plasma Big Screen di questo avevo parlato anche in occasione del rilascio della beta di Plasma 5.26 che cos'è Plasma Big Screen è un'interfaccia utente open source per televisore set top box praticamente è un grande launcher facilmente accessibile e utilizzabile da telecomando due sono gli applicativi che troviamo su Plasma Big Screen la prima si chiama Aura ed è un browser web ottimizzato per l'utilizzo mediante telecomando e la seconda è applicazione Plank Player che è un lettore multimediale che ci consente di riprodurre video da un dispositivo di archiviazione collegato alla televisione e successivamente arriveranno altri applicativi che renderanno Plasma Big Screen sempre più comprito ci sono poi altre novità kickoff adesso e il lanciatore applicazioni è possibile navigare facilmente nella selezione di tutte le applicazioni utilizzando un indice alfabetico il widget dizionario ci consente adesso di selezionare più di un dizionario quando cerchiamo una definizione o una traduzione di una parola altri widget come Seek Notice User Switcher e Media Player incorporano tutte le nuove funzionalità e modifiche per renderli più facili da utilizzare per gli utenti è possibile adesso ridimensionare il widget che abbiamo nel nostro pannello direttamente dai bordi del widget ed è possibile fare il ridimensionamento dei widget per widget come il calendario la gestione della rete il controllo del volume gli appunti insomma sono state fatte tante piccole modifiche qua e là che completano l'esperienza migliorano l'esperienza di KDE e restando sempre a parlare di KDE vi invito a guardare il video che ho pubblicato sul canale YouTube ma che trovate linkato anche sulle pagine del blog riguardante Control Center è un widget per KDE che rende il centro di controllo di KDE simile a Mac OS nel video vi faccio vedere quali sono le funzionalità principali di questo widget come si installa come risolvere i problemi a cui certamente andrete incontro andando a installare i widget e fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questo widget se lo utilizzerete oppure no prima di chiudere questa puntata parliamo di una notizia che è stata pubblicata dal team di Atras VPN a proposito di VPN vi ricordo come sempre che se avete bisogno di una VPN trovate sulle pagine di Marcosbox il link referral per potervi abbonare a tre delle principali VPN che sono disponibili all'interno del panorama delle VPN ovvero Atras VPN Nord VPN e Surfshark su Marcosbox trovate un articolo che fa una comparativa tra queste tre principali VPN che fanno parte tutta della stessa famiglia perché sono state acquistate tutte da Nord VPN negli scorsi mesi hanno tutte e tre le caratteristiche differenti andate a vedere quelle che calza a pennello per le vostre esigenze e magari se appunto dovete acquistare una VPN o dovete rinnovarla sfruttate il codice che trovate sulle pagine di Marcosbox in modo tale da supportare il canale dicevamo questa notizia è stata segnalata dal team di Atras VPN e riguarda la classifica del dei browser web con il maggior numero di vulnerabilità segnalate nel 2022 e all'interno di questa classifica che è basata è stata stirata basata sui dati forniti dal database delle vulnerabilità VDatabase VDB va questa statistica va a prendere un periodo di riferimento dal 1 gennaio 2022 al 5 ottobre 2022 e si va a concentrare sul numero totale di vulnerabilità quindi inclusa le vulnerabilità con correzione senza andare però ad andare a onore di cronaca non sono andati a vedere le gravità delle vulnerabilità però questo è un discorso relativo che può essere fatto perché sapete che la maggior parte dei browser web in circolazione sono basati tutti su Chromium quindi molto probabilmente una vulnerabilità che colpisce Google Chrome colpisce anche Microsoft Edge colpisce anche Opera colpisce anche Vivaldi quindi alla fine siamo qui comunque questa classifica vede come cambione di vulnerabilità per quest'anno Google Chrome Google Chrome ha il maggior numero di vulnerabilità segnalate con 303 vulnerabilità scoperte dall'inizio dell'anno tra parentesi Google Chrome è anche il reader di tutti i tempi con un totale di 3159 vulnerabilità cumulative al secondo posto della classifica dei bug segnalati nel 2022 segue Mozilla Firefox con 117 vulnerabilità terzo posto 103 vulnerabilità su Microsoft Edge che sono sempre state scoperte nell'ultimo anno tra parentesi anche questa cosa va analizzata perché Microsoft Edge ha il 61% di vulnerabilità in più rispetto all'intero anno del 2021 quindi stanno aumentando anche in questo caso le vulnerabilità nel frattempo i browser Safari di epoca ha registrato un numero di vulnerabilità più basso rispetto agli ultimi anni e lì si ferma se non ricordo male a tipo un mille eh no anzi Safari si ferma a 25 vulnerabilità dall'inizio dell'anno quindi chapeau per Safari Opera si ferma zero vulnerabilità scoperte segnalate documentate per quest'anno ed è una cosa che io ancora non riesco a qui devo andare un po' più a fondo di questa di questa di questa statistica perché ci sono alcuni numeri che mi lasciano un po' perplessi proprio il numero di vulnerabilità scoperte da documentate su Opera zero ma mi sembra una cosa un po' un po' assurda questo me lo lascio compitino per le prossime settimane per cercare di approfondire questa eh questa classifica che è stata stilata da Atlas VPN magari se c'è qualcuno tra di voi che è un po' più addentrato in questi argomenti fatemelo sapere che possiamo cercare di collaborare per cercare di capire meglio un po' la faccenda e con questa ultima notizia si conclude qui questa 133esima puntata il podcast di Marcosbox come sempre vi ricordo di seguirmi sui social quindi mi trovate su Facebook Twitter su Youtube mi trovate su LinkedIn con il mio profilo personale e soprattutto trovate il podcast di Marcosbox sulle principali piattaforme di podcasting quindi mi trovate su Google Podcast Apple Podcast su Spotify su Amazon Music trovate anche la skill di Alexa per il vostro dispositivo Amazon Echo mi trovate ovunque mi trovate e soprattutto vi ricordo di seguirmi sui canali Telegram trovate un canale dedicato praticamente un feed delle notizie che potete utilizzare a posto dei feed RSS dove vengono pubblicate soltanto le notizie inerenti a Marcosbox e poi qualche aggiunta ogni tanto di qualche altra cosa di articoli non pubblicati da me ma che meritano attenzione trovate poi il canale dedicato alla community Telegram di Marcosbox dove potete iscrivermi liberamente potete parlare di qualsiasi argomento non solo Linux trovate poi un canale dedicato alle offerte Telegram di Amazon sapete bene come funziona vengono postate delle offerte Telegram con link affiliazione Marcosbox trattino 21 se acquistate su Telegram con quel link di offerte supporterete il blog perché Amazon mi riconoscerà una piccola percentuale e in questo caso mi è servito anche per cambiare SSD potete comunque utilizzare il mio codice referere a Marcosbox meno 21 che trovate pubblicizzato anche sul blog quindi se non c'è un'offerta che vi piace all'interno del canale delle offerte potete utilizzare manualmente il link referere e vi ricordo nuovamente che potete supportarmi anche acquistando o rinnovando una VPN utilizzando i miei codici referere che trovate su Marcosbox lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcosbox e noi vedremo delle cose carine perché c'è in programma un nuovo articolo di Guca che verrà pubblicato probabilmente domani lunedì lunedì 17 per 17 ottobre e ci sarà poi in settimana il rilascio della nuova visoria di Ubuntu perché verrà rilasciata il prossimo 20 ottobre quindi giovedì giovedì 20 ottobre beh vi lascio le vostre cose lunga vita e prosperità a tutti quanti e buona vita grazie a tutti